Ciao! Vi ricordate? Questa è la seconda parte delle famose palle yogurt. La mia mamma li stava girando con il rastrello. Eccoli qui! Uh, brucia, brucia, brucia! Allora, le potete mettere la panna sopra o anche la nutella, oppure anche lo yogurt. Lo mangiate la mattina, o a merenda, o la sera, quando volete voi. Vi dico ancora buon appetito! Vi sento qualcosa sul colpo? Che cos'è? Ah! Cos'è il pente?